Ciccio Messina torna in sella, il tecnico siciliano maierpino d'adozione ha sposato il progetto dell'ambizioso Buccino in eccellenza. Dopo le dimissioni di Mr. Witter, al termine della sconfitta interna rimediata contro l'apice di Facchino per 4 a 1, Messina inizia così una nuova avventura nella Serie A del calcio del tante regionale. Tanta esperienza per lui, Solufra, Sant'Omaso, Cervinara, ora i rossoneri. Messina questa estate è stato vicino al ritorno all'Audax, poi il club non fu più rilevato da Filomeno de Lucia e l'accordo con i Gaudini saltò. Con Ciccio Messina anche il difensore classe 2001 Stefano Napolitano, ex della Polisportiva Grotta e in ultimo Gesualdo, mentre il fratello Angelo è approdato ai napoletani del San Vitaliano e giocherà nel campionato di promozione contro le Irpine. L'US Ariano non ferma la sua campagna acquisti alla corte di Mr. Virginio Greco altri sei calciatori, vestiranno l'Azzurro degli Ufitani, Nathan Cecere, Francesco Meloro, Davide De Maggio, Loris della Porta, Carlo Mazzarella e Giuseppe Martino.